È una terra difficile, difficilissima, però è la bellezza di stare su un'isola come questa qui. Sì, tu veramente ascoltare, si anche puoi sentire la vibrazione della terra. Lei è quella che ci accompagnerà al matrimonio anche, quindi sarà parte della nostra storia. Ma la panda che c'entra? Le panda si smontano tutti i giorni, ce ne sono un baiardo all'isola. Sono solo panda qua. Mette in moto il cammino, consuma poco, non fa domande.